Scuola Oltre presenta i nuovi corsi di formazione webinar. Sono Gabriella Perugini, musicista e formatrice. Ho iniziato ad amare la chitarra fin da bambina e suono gli autori nascimentali. La mia vita è piena di musica, in ogni istante e di ogni giornata. Durante i miei laboratori musicali amo suonare anche per i bambini, che rimangono letteralmente rapiti dalla magia della musica. Come formatrice mi piace molto motivare i docenti, trascinandoli con la mia passione musicale, perché insegnare musica è un piacere da condividere anche con i bambini. Nello specifico vi presento il mio corso Ascolto con la testa e con il cuore, per accompagnarvi nel mio mondo sonoro. L'ascolto è alla base di ogni processo di apprendimento. Nella scuola l'ascolto è troppo spesso, proposto senza sfruttarne tutte le potenzialità. I bambini sono tempestati da sollecitazioni uditive e i docenti riscontrano nelle varie classi un diffuso deficit d'attenzione. Con Ascolto con la testa e con il cuore scoprirete molte tecniche di ascolto, che potrete applicare più facilmente rendendo le vostre lezioni più coinvolgenti e attive e migliorando automaticamente anche i tempi di attenzione dei vostri bambini. Partecipando al corso cambierà inoltre anche la vostra modalità di ascolto. Vi coinvolgerò infatti in emozionanti esperienze perché si ascolta con le orecchie, ma soprattutto con il cuore. Veniamo adesso nel dettaglio i cinque incontri. Nel primo webinar parleremo di ascolto passivo e attivo e presenterò anche i contenuti dell'intero corso. Il secondo incontro è invece dedicato alle emozioni e agli effetti dell'ascolto sulla persona. Nel terzo webinar, ma che musica, allargheremo gli orizzonti e vi aiuterò a orientarvi nei vari generi. Nel quarto webinar useremo la testa per conoscere le tecniche di ascolto utili per la didattica e concluderemo con Ascoltare per fare musica, che sarà un incontro ricco di spunti operativi da sperimentare a scuola. I punti di forza che caratterizzano la mia metodologia sono la programmazione personalizzata e la trasversalità nelle varie discipline. Chi partecipa al mio corso ne uscirà arricchito con le conoscenze utili a costruire una buona programmazione in ambito musicale. Vi aspetto quindi ad ascolto con la testa e con il cuore, ricordandovi che la prima lezione è gratuita per tutti. Proprio così, lo staff di Scuola Oltre dà la possibilità a tutti i docenti, educatori, dirigenti scolastici, professionisti del settore e chiunque sia interessato, di partecipare gratuitamente alla prima lezione del corso di formazione webinar per vivere l'esperienza in prima persona, così da poter poi scegliere se proseguire acquistando il corso. Per iscriverti, compila il modulo sottostante. Riceverai direttamente il link nella tua casella di posta elettronica per partecipare alla tua prima lezione. Il corso rilascia a tutti i corsisti l'attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR. Corsi di formazione Scuola Oltre. Esperienze da vivere insieme.